Mi è capitato spesso di parlare di come cambia il paesaggio nelle stagioni e nel tempo e ho parlato anche di come cambia di notte, di giorno. Non credo di dire nulla di strano nell'affermare che esiste notte e notte, esiste giardino di notte, esiste giardino di notte, esiste parco di notte, esiste parco di notte. E tu mi dirai a questo punto ma che significa? Significa che ogni luogo ha una sua peculiarità, ogni luogo ha una sua natura, ogni luogo ha un suo legame con un modo di esprimersi che noi spesso, vivendo solo di giorno, non percepiamo. Ogni luogo si manifesta in modo diverso a seconda delle ore, del giorno e della notte. Un giardino può, a seconda delle ore, a seconda del modo in cui è fatto, a seconda di se sia un luogo molto aperto o riparato, un luogo in cui ti senti esposto, un luogo che è frequentato da tantissimi animali, può essere più o meno terrificante. Ti assicuro che magari ti è capitato, ma se cammini anche al crepuscolo, in un posto, improvvisamente senti un urlo di una donna straziata, anche se sai che si tratta di una volpe, perché le volpi fanno un verso simile, fa effetto. E questo può capitare anche nei parchi pubblici, magari in posti un po' più liberi, un po' più pieni di vegetazione. Progettazione Insomma, questi sono aspetti che non si possono progettare del tutto. La vita notturna di un giardino è variegata e cambia di posto in posto e magari lo esploreremo in altri modi, altre volte. Intanto io vorrei sapere tu che ne pensi, qual è la tua esperienza notturna di giardini. Fammelo sapere con un commento e raccontami ricordi, oppure paure, oppure racconti che ti sono stati fatti. E a questo punto io ti saluto e ti ringrazio di aver fatto questa passeggiata notturna insieme a me in giardino. Ciao!